Ciao ragazzi, sono Randellone, oggi siamo in un gioco un po' diverso dal solito Tower of Guns, e questo gioco è veramente bello, era gratis un po' di tempo fa su Playstation Plus e vi volevo portare il primo livello per farvi vedere un po' com'era, è molto divertente quando non si sa che fa, questo è l'ideale allora, prima di tutto qua c'è un easter egg dove c'è sempre, un segreto soprattutto dove c'è sempre queste monetine, dobbiamo arrivare al boss ci diamo intanto questi robocini, ci hanno un po' di punti muori vai, questo gioco è pieno di segreti quindi è pieno di muri invisibili o cose del genere puoi fare una marea di salti in questo gioco, anche con dei perche tipo puoi avere altri salti chi non è abituato al genere, insomma è molto difficile non è bello noci non è alfa però diverte davvero tanto questo gioco sono arrivato spesso al boss finale però non ce l'ho mai fatta insomma se ci metto un po' di impegno ce la farei dopo un qualche tentativo però vabbè allora cavolo questa parte mi sa un po' difficile cavolo se volete il primo livello questa parte è davvero tossa che cazzo sta succedendo? che famoglia ecco siamo al boss finale cavolo mi sarà la prima partita che rischio di morire al primo livello anzi sono morto io farei un altro tentativo uh new perk strano però di solito è molto più facile facciamo un altro tentativo sperando di non filare malamente all'ultimo boss del livello ok ora aumento un po' il passo perché se no potrebbe diventare troppo lungo il video allora va 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 iscriviti al nostro canale cavolo è un casino qua no calchiamo questi nemici già che ci siamo vai questo è tosto questo è tosto veramente bello già metà vita dai dai credo dobbiamo spararli lì è quello che conosco un po' di meno sinceramente quindi scusatemi che sto sbagliando qualcosa non so non so scusatemi che sto un po' zitto solo è molto difficile ma non muore non muore credo credo scrivetemi sotto nei commenti se volete altri video del genere magari facendocela vabbè spero che il video vi sia piaciuto in tal caso commentate iscrivetevi noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao